Benvenuti nel canale se il video è di tuo gradimento puoi farcelo sapere con un mi piace. Come procede tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? Edoardo inizia con una storia dicendo che la sera avrebbe portato Antonella al concerto di un suo cantante preferito di nome Alfa. Antonella non lo conosce bene e dice che a lei piacciono i rapper. Ma lui non è un rapper e fa una gaff. Ritornata a Roma trova centinaia di foto e di lettere sul suo letto dediche e foto stampate su cuscini e magliette regalate dai suoi fan. Non crede ai suoi occhi. Poi una partita di scacchi veloce con Edoardo e vanno subito al concerto che ha prenotato Edoardo gli scorsi giorni. Antonella e Edoardo sono sempre uniti, si dividono soltanto quando Edoardo va a lavoro in radio. Ma che lavoro fa Antonella? Voi lo sapete. Scrivetelo nei commenti. Canale Fabio Pecce.